Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video di Guida in Italiano. Oggi parleremo di questa. Esatto, la stessa scheda di cui abbiamo parlato già nel nostro primo video. Se non l'hai ancora visto, qui sopra ti metto il link del video. Ma vediamo l'evoluzione di questa scheda. Allora, in tantissimi mi avete chiesto, ho fatto domande, è effettivamente una scheda veramente molto buona, la Focusrite. Ma vediamo che cosa cambia dalla parte evolutiva di questa scheda. Apriamo subito il pacco. Come vedete, oggi, a differenza dell'altra volta, non ho il coltello da cucina, ma ho trovato il taglierino. Quindi apriamo il pacco come le persone normali. Ed ecco il nostro kit. Nello specifico è la Focusrite Scarlett 2D1 Studio, che è molto molto simile a quella che abbiamo visto nel primo episodio, quindi a questa, che è la versione 1. Il kit è pressoché identico, quindi cuffie e microfono sono uguali, quindi se volete sapere come si sentono e come si sente il microfono, basta che vedete il video precedente. Vediamo invece le differenze della scheda. Adesso andrò ad aprirla, ma prima di tutto, sigla. Ed eccoci qua. Senza ovviamente andare a togliere tutti gli accessori dalla scatola, perché ripeto, sono identici al kit 1, andiamo invece proprio a vedere le differenze di questa scheda. Allora, le principali funzioni rimangono le medesime. Come potete vedere, anche questa scheda, due jack da 6 come uscita per le casse, USB di tipo C per quanto riguarda connessione col computer e alimentazione diretta della scheda, e anche questa scheda ha esattamente le specifiche della prima, quindi abbiamo ovviamente alimentazione Phantom, funzione Air per dare una voce un po' più limpida e cristallina, regolazione dei singoli volumi degli ingressi, ma qui iniziano le differenze. Infatti, l'ingresso 1 e l'ingresso 2, questa volta sono tutte e due ingressi XLR, quindi con possibilità di inserire connettore XLR per microfoni ovviamente più professionali, ed entrambi supportano anche jack da 6 come ingresso. Quindi sicuramente questa è la prima differenza rispetto alla versione 1 di questa scheda. Ma la grossa differenza, che per tanti effettivamente è una cosa che non può mancare, è la doppia regolazione per l'uscita. Abbiamo l'uscita master, quindi la regolazione del volume master che andrà a regolare i nostri spinotti da 6 verso le casse, ma in più abbiamo anche un'uscita dedicata per quanto riguarda le cuffie. Quindi potremo avere un volume molto molto basso, magari di sottofondo per quanto riguarda le casse, e noi invece sentire molto limpidamente attraverso le cuffie che abbiamo proprio collegato alla scheda. Vi ricordo che la versione presente di questa scheda non aveva questa funzione, ma l'uscita era unica, la regolazione unica, quindi se andavate a diminuire il volume delle casse automaticamente diminuivate anche quello delle cuffie. Per chi come me utilizza le cuffie molto alte, ovviamente era obbligato a spegnere le casse perché sennò queste sparavano all'eccesso. Detto questo, ovviamente in descrizione vi metto il link anche di questo kit, le cose sono cambiate un pochettino, non vendono più gli accessori singoli, o meglio potete trovare la scheda sì singolarmente, ma se volete microfono e cuffie solo più in kit, quindi vi metto il link della sola scheda e del kit che vi ho appena fatto vedere, quindi comprensivo delle cuffie da studio e del microfono. Se volete sentire l'audio del microfono andatevi a rivedere il vecchio video dove vi faccio proprio sentire l'audio non modificato di questo microfono. È un kit professionale, rimane comunque in fascia economica, quindi praticamente per le tasche di tutti, ed è molto molto buono quindi per chi fa home production. Detto questo, vi saluto, se avete domande scrivetemi nei commenti sotto, se avete anche consigli per i video fatelo, non ci sono problemi, e se non vi siete ancora iscritti al canale fatelo, accendete la campanellina e lasciate un bel like. Ciao! Ciao!